Vie di comunicazione, strade, ferrovie, navi, aerei, linee elettriche, telefoniche, gasdotti, oleodotti e connessioni informatiche. Come vedete, in questa lezione di geografia toccheremo svariati argomenti. Incominciamo col parlare proprio delle strade. Abbiamo detto che questo è il primo argomento. Per introdurci a questo argomento leggiamo un testo tratto da uno dei classici, diciamo, on the road degli anni, insomma, del secondo dopoguerra, caratterizzati da una filosofia di vita particolare, cioè il vivere sulla strada. È una sorta di vangelo di questo modo di vivere, un po' alla giornata, ed è il famoso romanzo Sulla strada di Jack Kerouac, appunto, on the road. Qui vediamo un testo tratto da questo romanzo. A Peterson avevo studiato per mesi le carte stradali degli Stati Uniti, mi ero letto persino i libri che parlavano dei pionieri, andando in visibilio per nomi come Plait e Simaron, e così via. Ecco, si può dire che gli Stati Uniti nascono nel segno del viaggio, perché appunto solamente attraverso viaggi ed esplorazioni l'uomo europeo ha conosciuto questo nuovo continente, e viaggi interni, perché, come ben sappiamo, soprattutto nell'Ottocento, si è creata una sorta di grande migrazione alla conquista dell'Est, quindi alla conquista di spazi e territori immensi, che non erano ancora stati conosciuti dai coloni, e che erano in mano solamente ai nativi americani, cosiddetti peli rossa. Quindi, dicevamo, i pionieri sono un po' gli eroi di questa epopea del viaggio, almeno nella storia degli Stati Uniti. E sulla carta stradale c'era una lunga linea rossa chiamata Strada Statale numero 6, che partiva dalla cima di Capo Cod dritto fino a Ely, nel Nebraska, e da lì scendeva fino a Los Angeles, appunto una strada che attraversa l'America e giunge nella West Coast, appunto, nella costa occidentale. Mi sarei messo sulla numero 6 per tutto il percorso fino a Ely, disse a me stesso, E' intrapreso il viaggio con fiducia. E' proprio un piccolo stralcio da questo romanzo, che ci fa capire come la voglia di viaggiare abbia caratterizzato una generazione, e in generale, poi in America, la voglia di scoprire questi paesaggi straordinari, come ad esempio le montagne rocciose, il Grand Canyon, e tutto quello che, insomma, tutte le scoperte che si potevano fare verso ovest. E' solo un esempio di quello che ancora oggi, come mito, possiamo dire, è la strada per noi uomini moderni. Ma andiamo agli origini. Tanto per ricominciare, la parola strada deriva da strata, e ci fa capire subito come, per i romani, che hanno inventato questo termine, la strada era appunto il frutto di una serie di stratificazioni. Nel senso che le strade romane erano fatte più o meno così. Si scavava una sorta di trincea, e poi attraverso una serie di strati differenti, di massicciate di sassi più o meno piccoli, si costituiva un fondo stradale, appunto, destinato a resistere al tempo. Tant'è vero che ancora oggi le strade romane sono pervenute a noi, e noi le possiamo ammirare ancora in certi tratti. Vediamo, ad esempio, la via Salaria, che legava il mare Adriatico, dove si prendeva il sale, al mare Tirreno. Ed è proprio sulla via Salaria, poi ne parleremo più approfonditamente, è precisamente là dove c'è l'isola Tiberina, un punto importante, un guado importante del fiume Tevere, che viene fondata alla stessa città di Roma. La via Appia, che è la prima via costruita dai romani per collegare, anzitutto, la città di Capua, quindi praticamente Roma, e il Lazio alla Campania. Poi la città di Brindisi, che era un porto fondamentale, pensate, per esempio, alle navi che partivano e partiranno poi alla volta della Grecia. Poi la via Aurelia, la via Aurelia è segnata qua in giallo, ed è la via che collegava Roma a Pisa, quindi il Lazio all'Etruria. La via Flaminia, la via Flaminia la trovate qua in viola, e collegava Roma a Dancona e a Rimini. La via Pompeia, che era una via praticamente della costa orientale della Sicilia, e collegava Messina a Siracusa. La via Emilia, che collegava invece Rimini a Piacenza. la via Cassia, che collegava Roma a Genova, attraverso sempre l'Etruria, diciamo, però non la costa, come accadeva con la via Aurelia, ma le parti più interne, le zone più interne, e quindi ai piedi dell'Appennino. Poi abbiamo, quindi questa era la via Cassia, abbiamo la via Popilia, un'altra via che collegava Capua con Reggio, Reggio Calabria, e la via Emilia Scaura, che collegava Piacenza a Genova, a Pisa. E infine dobbiamo aggiungerci anche la via Valeria, che è una via che costeggiava il litorale settentrionale della Sicilia, da Messina fino a Lilibeo, cioè praticamente fino all'odierno di Anna Trapani. La via Salaria, importantissima, che era preesistente, appunto, dicevamo, ai Romani. Già i Sabini la percorrevano fin dal X secolo a.C. per procurarsi il sale nel mare Adriatico. Importantissimo per conservare i cibi e per nutrire le greggi, i sale o altri prodotti che comunque venivano commerciati attraverso questa via. La via Salaria collega il Tevere alla regione chiamata Sabina. La via Campana unisce la foce del Tevere all'isola Tiberina. È praticamente l'ultimo tratto della via Salaria. Da Roma fino alla foce del Tevere. I Romani utilizzano il collegamento con Martinsicuro e poi Brindisi per sfruttare il potenziale di un commercio che unisce due mari. E quindi questo commercio del sale che aveva come strada privilegiata questa, la Salaria, queste sono antiche mura di sostegno alla via Salaria che sono ancora visibili lungo il percorso, questo commercio del sale toccherà anche altre zone, altre regioni come dicevamo Brindisi, con la via Appia. La via Flaminia invece costituiva il collegamento verso nord perché collegava Roma a Fano e a Rimin. La strada è anche il primo passo verso la conquista della pianura padana. La via Emilia è importantissima per completare questa conquista. Sappiamo infatti che tra la prima e la seconda guerra punica già i Romani avevano combattuto contro i Galli, poi erano stati costretti a fermarsi per via della minaccia cartaginese di Annivale e poi finita appunto la seconda guerra punica ci furono parecchie offensive dei Romani nell'Italia settentrionare, vittorie ripetute e affermazioni sui Celti che erano stati alleati di Annibale e infine nel 187 il controllo definitivo della pianura padana. A questo punto viene costruita la via Emilia proprio in quell'anno del 187 per romanizzare le regioni conquistate, trasferire i veterani nei campi centuriati lungo il Po. Un modo infatti per romanizzare quelle regioni era dare del terreno ai veterani, quindi ai soldati che avevano combattuto anche in queste stesse battaglie di conquista perché coltivassero ad esempio i terreni. Erano importantissime le strade, ne parleremo ancora per i passaggi delle truppe ed erano un sistema orientato al dominio sui popoli e adesso lo vedremo anche nelle prossime slide. Un sistema efficiente, l'abbiamo detto che da un punto di vista della tecnologia queste strade erano veramente fatte molto molto bene e capaci di resistere per lunghissimo tempo. Consentivano il passaggio alle bighe, spesso c'erano due solchi che facilitavano il passaggio delle bighe lungo queste strade, i carri, quindi da trasporto, e le legioni in marcia. Il sistema aviario permette alle istituzioni imperiali di controllare le province e di mantenere i contatti con le periferie. Le conquiste richiedono un'estensione capillare delle strade ai territori vergini, per cui prima abbiamo visto la rete delle strade dell'Italia, già piuttosto articolata. Adesso vedremo anche un'altra slide con tutta la rete delle strade imperiali. Lungo il cammino, il percorso, più o meno intorno a un chilometro e mezzo, l'una dall'altra, si ponevano le pietre miliari, cioè cippi, poste sul cilio delle strade romane per indicare la distanza da Roma o la lunghezza del percorso verso altre città. Aiutavano i viaggiatori e i militari lungo il cammino, per capire a che punto erano arrivati del percorso, e segnalano l'uniformante presenza della cultura romana nelle province. Qui troviamo delle pietre miliari romane sul Monte Nebo in Giordania, giusto per farvi capire. Lo capite comunque anche da questa slide che ci mostra quali sono le strade imperiali nel momento di massima espansione dell'impero. Una rete che, come vedete, attraversa tutti i territori romanizzati e quindi sottoposti al potere centralizzante dell'impero romano. La decadenza del periodo tardo-antico provoca un dissesto delle strade imperiali. E' chiaro che le invasioni barbariche porteranno a un degrado e quindi ci fu, con la caduta dell'impero romano e con le invasioni barbariche, un vero e proprio tracollo della rete viaria. E quindi poi però, dall'anno 1000 in poi, con il basso medioevo, la ricomparsa delle strade pavimentate accompagnò la rinascita della civiltà europea, poi andando avanti nei secoli successivi, quindi anche nei secoli, ad esempio, del Rinascimento, fino al 700 e all'800. Una invenzione straordinaria e importantissima fu l'asfaltatura. Nell'asfalto, quindi, è una roccia naturale, che però è abbastanza rara. Diciamo che si riuscì, attraverso un procedimento, ad asfaltare, per la prima volta, le strade verso la fine dell'800. Si trattò di una vera e propria rivoluzione. Poi si sono trovati anche dei metodi meno costosi, che quindi prevedono una percentuale di elementi praticamente prodotti industriali, insomma, e non derivanti da, come dire, da estrazione di pietre naturali. che hanno permesso di asfaltare tutte le strade, si può dire, del mondo. Si crea una sorta di strato, che possiamo vedere qua, con delle sostanze collose, bitumi, eccetera, che rappresenta un manto stradale molto più efficiente rispetto a quello che avveniva in passato, ad esempio con le strade sterrate. E' chiaro quindi che sono state costruite quindi le strade, le autostrade, attenzione che le strade però devono essere continuamente sottoposte a manutenzione. Eh, lo sappiamo, ahimè, che insomma, certe volte accadono del, ad esempio, dei disastri naturali che favoriscono il deterioramento della rete stradale. Sono state costruite delle strade anche in situazioni geografiche estreme, come l'autostrada della Amazzonia oppure la Karakorum High Way, quindi l'autostrada che passa attraverso le montagne appunto del Karakorum, alcune tra le montagne più alte della Terra. Questa Karakorum High Way collega la Cina al Pakistan arrivando a 4963 metri di altitudine, quasi 5000 metri di altitudine. Certo, non è sempre facile transitare da queste strade perché sono molto frequenti le frane oppure la foresta amazzonica ad esempio tende a riprendersi il manto asfaltato oppure sempre sulla Karakorum High Way spesso le strade sono ricoperte da neve in certi mesi dell'anno. Passiamo adesso a parlare delle ferrovie, cioè delle strade ferrate che hanno reso il trasporto terrestre più rapido ed economico. Sappiamo bene che sono nate all'inizio dell'Ottocento. C'è stato uno sviluppo straordinario delle ferrovie lungo tutto quanto l'Ottocento fino alla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento dove si è sviluppata una rete ferroviaria che ha secondato la rivoluzione industriale e anzi è stato un elemento fondamentale nella rivoluzione industriale. Ecco, questa per esempio è un'immagine relativa alla prima ferrovia italiana che collegava Napoli capitale del regno di Napoli insomma del regno dei Borboni con Portici un'altra città della Campania. Certamente però il trasporto su rotaia ha un limite nel senso che è legato a degli orari ed è anche ovviamente dovendo passare attraverso delle rotaie è molto come dire coercitivo o comunque obbliga a un certo percorso e quindi è venuto è andato anche un po' in crisi certe volte ecco che per ovviare a questa crisi è nata l'alta velocità la prima linea ad alta velocità progettata in Europa è stata proprio italiana la direttissima Firenze-Roma i cui lavori sono iniziati nel 1977 ritardi tecnici e vicende politiche ne hanno però rallentato i lavori che sono stati completati solo nel 1992 pertanto poi siamo stati sorpassati da altre nazioni come ad esempio la Francia con il TGV ancora oggi comunque l'Italia è sempre all'avanguardia nella costruzione di treni ad alta velocità in Europa comunque la costruzione delle linee ad alta velocità in Italia suscita vivaci polemiche con forti divisioni nell'opinione pubblica e manifestazioni no-tav e si-tav pro-tav diciamo che si susseguono l'una dopo l'altra soprattutto in Piemonte dove c'è in discussione la costruzione appunto di una linea ad alta velocità un treno ad alta velocità che dovrebbe collegare l'Italia con la Francia ma ci sono molte polemiche perché ad esempio le popolazioni montane di certe valli che verrebbero sicuramente ad essere un po' stravolte dal passaggio di questo treno ad alta velocità sono contrarie oppure sono contrari certi partiti politici che individuano in questa costruzione di treni ad alta velocità il rischio di corruzione d'altra parte però altri partiti politici o movimenti di opinione sottolineano l'importanza dei collegamenti che come sempre è stato nella storia sono andati di pari passo anche con lo sviluppo dei commerci dei traffici e dell'economia in genere pensate anche semplicemente ai posti di lavoro che si creerebbero con la costruzione ad esempio della TAV ma dicevamo che nei decenni centrali del novecento il trasporto su rotaia è stato un po' sul classato da quello su gomma che può essere più capillare e non è legato ad orari quindi poi abbiamo visto che c'è stato il tentativo di contrastare questo con i treni ad alta velocità i primi sono nati negli anni sessanta del novecento in Giappone e poi in Europa hanno cominciato a circolare treni in Francia Germania e in Italia oggi la Cina è il paese con la più estesa rete ad alta velocità ma stavamo parlando dicevamo del trasporto su gomma e quindi ad esempio dei tir che trasportano container questi tir poi giungono spesso ai porti dove questi container vengono imbarcati sulle navi è possibile oggi anche trasportare sulle navi refrigerate nei container refrigerati qui vediamo nella slide tutti gli elementi di un container refrigerato che permette trasporto di merci che altrimenti sarebbero deperibili ad esempio quindi è possibile commerciare le carni che provengono dall'Argentina e quindi venderle ad esempio in Europa proprio mettendole in questi container refrigerati in cui le carni non perdono insomma i loro valori organolettici ecco il trasporto su acqua il trasporto su acqua è sempre stato fino all'invenzione delle ferrovie il mezzo di trasporto più usato per il commercio e continua ad esserlo infatti è sempre più economico di quello via terra ancora oggi l'80% circa del commercio mondiale avviene per nave è impossibile infatti trasportare merci di grande volume e di costo con un costo relativamente basso anche se purtroppo è piuttosto lento questo trasporto ad esempio il trasporto sull'acqua che può avvenire via mare oppure anche attraverso fiumi navigabili un esempio classico è il fiume Reno qui abbiamo un'immagine di navigazione sul Reno il fiume è collegato al Danubio da un canale quindi oltre ai fiumi navigabili ci sono anche i canali navigabili che spesso collegano i fiumi tra loro non solo in Europa ma anche in Cina o nella regione dei grandi laghi in America o anche nell'Europa orientale non solo in quella occidentale creando vere e proprie reti fluviali ecco dicevamo di questo canale che collega il Reno al Danubio e questo permette di navigare senza soluzione di continuità dalle coste dell'Atlantico a quelle del Mar Nero un primo collegamento tra i due fiumi era stato realizzato nell'ottavo secolo per iniziativa di Carlo Magno ma era rapidamente andato in rovina ovviamente poi negli ultimi secoli invece questi canali navigabili sono stati riattati risistemati e quindi è possibile questa navigazione ed è anche molto importante oltre alla navigazione sull'acqua dobbiamo anche adesso fare cenno alla navigazione in cielo tramite aereo si tratta di un mezzo tipicamente moderno senza dubbio gli aerei hanno rivoluzionato il modo di viaggiare permettendo di raggiungere in poche ore i quattro angoli del globo mentre prima erano necessari giorni o settimane pensate io del mondo in 80 giorni fatto quando ancora non c'erano gli aerei con lo sviluppo ed era un record all'epoca ecco poi c'è stato però gli aerei e quel trasporto via aereo era molto costoso fino a qualche decennio fa poi si sono sviluppate le compagnie low cost in questa slide ad esempio ho inserito una tabella con i costi del viaggio insomma da Milano a Copenaghen capitale della Danimarca e viceversa come vedete ci sono prezzi molto convenienti soprattutto in certe stagioni dell'anno per cui con pochissime decine di euro è possibile viaggiare appunto ad esempio da Milano a Copenaghen dall'Italia alla Danimarca o anche in altri posti dell'Europa sempre un costo molto basso e anche relativamente basso anche se magari un po' più alto anche in altri convenienti in altri continenti scusate l'aereo rimane sempre pur magari da questi voli low cost più costoso di ogni altro mezzo di trasporto per cui è conveniente per le persone oppure per merci di piccolo ingombro e di grande valore e invece per merci di grande volume insomma sicuramente non è il mezzo migliore ha però il vantaggio di essere molto più rapido rispetto a un viaggio via mare o via corsi d'acqua altre vie di comunicazione sono quelle elettriche le linee elettriche hanno permesso e permettono ancora oggi di trasportare energia facilmente utilizzabile anche a distanze notevoli l'Italia importa circa il 13% dell'energia elettrica che consuma dai paesi limitrofi pertanto ci sono delle linee che giungono da altri paesi e alimentano anche insomma l'energia elettrica nelle nostre città in misura minima però il 13% perché per fortuna almeno questa fonte per quanto riguarda questa fonte di energia l'Italia dipende di meno dagli stranieri in quanto ha delle centrali ad esempio idroelettriche o anche termoelettriche che permettono una certa autonomia parlando di energia dobbiamo anche dire che esiste una rete di gasdotti e di oleodotti uno di questi ad esempio è il TAP il TAP è Trans Adriatic Pipeline come vedete il gas è estratto nelle regioni che costeggiano il Mar Caspio ad esempio nell'Azerbaijan anche se c'è il progetto di estrarre questo gas anche dalle coste orientali del Mar Caspio e non solo da quelle occidentali questo gasdotto è già presente e porta il gas dall'Azerbaijan attraversando poi il Caucaso tutta quanta la Turchia fino arriva fino in Grecia c'è però il progetto di completare l'ultimo percorso che permetterà di far arrivare questo gas anche in Albania e soprattutto in Italia precisamente sulle coste della Puglia anche questo progetto è un po' controverso e anche in questo caso l'opinione pubblica si divide in quelli che possiamo definire no TAP quindi contrari a questo gasdotto insomma per motivi ambientalisti o quelli che invece sono favorevoli a questo gasdotto perché sappiamo benissimo che l'Italia ha fame insomma di gas e il gas è comunque anche una fonte di energia un pochettino più ecologica rispetto ad altre fonti di energia pensiamo ad esempio alla nafta piuttosto che alla nafta gasolio e benzina e quindi sono favorevoli all'accompletamento di questa TAP altri esempi insomma di questi ecco un altro esempio di queste vie dell'energia è invece l'oliodotto dell'amicizia druzba infatti è un termine russo che vuol dire amicizia si tratta di un oleodotto che porta il petrolio dai giacimenti dell'aria sempre vicino al mar Caspio una zona molto ricca di risorse quella presso il mar Caspio in particolar modo in questo caso il Kazakistan e anche la Siberia fino all'Europa centrale come vedete qui attraversando Bielorussia Polonia diciamo il ramo settentrionale oppure Ucraina Slovacchia Repubblica Ceca Ungheria fino alla Croazia insomma per quanto riguarda il ramo meridionale bene parliamo adesso della rivoluzione delle informazioni quindi vie di comunicazione anche riguardo alle informazioni esistono due tipi di vie di informazione quelle che riguardano le comunicazioni unidirezionali e quelle che riguardano le comunicazioni bidirezionali nel caso delle comunicazioni unidirezionali possiamo pensare storicamente anzitutto al cinema poi alla radio e infine alla televisione e quindi attraverso questi mezzi questi strumenti tecnologici e che possiamo anche chiamare mass media è possibile da una fonte ad esempio questa fonte potrebbe essere ad esempio la RAI nel caso del nostro paese la radio televisione italiana oppure le industrie cinematografiche giungere ad un pubblico vastissimo ma abbiamo detto che volevamo parlare anche delle comunicazioni bidirezionali e quindi per esempio quelle telefoniche la storia ha visto anzitutto la creazione di fili telegrafici cavi telegrafici e poi da questi i fili telefonici creando quindi una vera e propria rete che poi la rete della telefonia fissa che usiamo noi ancora oggi per il telefono di casa gli ultimi decenni però hanno visto ci hanno fatto assistere a una vera e propria rivoluzione in questo campo nel senso che si sono moltiplicati i telefoni cellulari e questi ormai sono molto più numerosi di quelli fissi ecco la telefonia fissa in certi paesi pensiamo per esempio guardiamo qui in fondo la tabella al Congo ecco il Congo praticamente non aveva una rete telefonica di telefonia fissa grazie però all'introduzione dei telefoni cellulari con un costo decisamente inferiore infatti non è in questo caso non è stato necessario investire forti somme per collegare milioni di utenze con appunto la tecnologia della telefonia fissa ma con i telefoni cellulari come vedete è stato possibile anche in un paese come il Congo una grande diffusione dei telefoni per mille abitanti quelli della telefonia però tramite cellulari quindi come vedete c'è una sproporazione eccezionale il 400% nel caso del nostro paese la situazione è diversa perché noi avevamo una rete di telefonia fissa storicamente piuttosto complessa e quindi avanzata e quindi ancora oggi c'è una percentuale considerevole diciamo di telefoni per mille abitanti abbiamo 346 telefoni per mille abitanti è chiaro che comunque anche in Italia anche se in proporzione diversa rispetto al Congo o alla Nigeria la telefonia mobile quindi quella dei cellulari ha ampiamente superato quella fissa e quindi come vedete abbiamo un cellulare e mezzo per abitante attenzione questa fonte the world communication è comunque una fonte non aggiornata nel senso che si riferisce probabilmente a dati intorno agli anni del 2010 e quindi adesso queste proporzioni sono cambiate ulteriormente perché la telefonia mobile si è sviluppata ancora di più in questa tabella possiamo vedere anche gli accessi a internet per mille abitanti ecco come vedete siamo ripeto intorno al 2010 avevamo più o meno la metà degli abitanti dell'Italia che accedevano ad internet in quell'anno evidentemente sono aumentati nel corso degli ultimi anni ecco effettivamente in questo caso per esempio il Congo era rimasto un po' fuori almeno in quell'anno lì 2010 la Nigeria no quindi vuol dire che ci sono stati ci sono degli stati dei paesi meno sviluppati in cui comunque questo accesso a internet è aumentato moltissimo nel corso degli ultimi anni anche se insomma la percentuale è sicuramente ancora inferiore rispetto ai paesi occidentali o più sviluppati ecco qui vediamo proprio una slide relativa ad alcuni scolari keniani che fanno la prima esperienza di uso del computer certamente c'è un certo divario ne parleremo la volta prossima nella prossima lezione di geografia fra le nazioni in cui sono presenti delle connessioni ad alta velocità per cui molta più gente insomma si collega a internet con connessioni ad esempio del tipo DSL oppure oggi come oggi ovviamente anche ancora più veloci con la fibra cioè le fibre ottiche invece in altri paesi la percentuale di connessione ad alta velocità rimane rimane bassissima e di questo parleremo una volta prossima quando parleremo del digital divide una delle sfide dello sviluppo e appunto consiste appunto in questo divario fra i paesi più sviluppati e gli altri nella diffusione delle connessioni ad internet il che rappresenta una cosa fondamentale oggi come oggi perché proprio attraverso internet che c'è stata una grande rivoluzione delle comunicazioni come ben sappiamo ormai questa rete la rete di internet si utilizza non solo per la ricerca di informazioni ma anche per la comunicazione e anche per ormai come surrogato agli mezzi di comunicazione di massa tradizionali quali cinema radio e televisione bene vi ringrazio questo infatti era l'ultimo concetto di cui volevo parlarvi oggi in questa lezione e una volta prossima comunque riprenderemo questi argomenti e completeremo il nostro discorso sulle comunicazioni e soprattutto sul controllo delle vie di comunicazione che un'altra Grazie.